Ritardi e soppressioni improvvise, poche corse ed indicazioni spesso non troppo puntuali ai megafoni e sui tabelloni, senza contare la tratta Napoli-Torre Annunziata-Poggio Marino di recente soppressa. Sono giorni da incubo per gli utenti della circonvesuviana, studenti, lavoratori, famiglie, pendolari, che abitualmente utilizzano il servizio per recarsi al lavoro o all'università. Non mancano le lamentele e i malumori. Disaggi anche quando piove, si apprende dalle numerose segnalazioni giunte alla redazione di TV City, anche all'interno dei convogli. E non tutte le porte dei treni si aprono, i disservizi sono innumerevoli. Tra gli altri va evidenziato anche il fatto che i tornelli nelle stazioni non scannerizzano gli abbonamenti annuali di Unico Campania. Un lungo elenco di problematica a cui va ad aggiungersi la mancanza di controlli sia per i biglietti che per l'obbligo di mascherine, a fronte di assembramenti non più tollerabili. Panico e caos nella giornata di mercoledì, quando un treno della circonvesuviana è rimasto bloccato per 45 minuti sotto la galleria tra le stazioni di Seiano e Meta. Secondo i pendolari sul convoglio, rimasto senza illuminazione e senza che fosse fornito ai viaggiatori alcun tipo di informazione, si sarebbero verificati momenti di forte tensione. Dalle testimonianze molti viaggiatori sono andati totalmente nel panico, c'è chi è svenuto e chi è crollato in un pianto addirotto. Qualcuno ha provato a contattare i numeri di emergenza ma i tentativi sono stati vani. L'ennesimo pomeriggio da incubo per i pendolari, in attesa in tempi brevi di risposte chiare e soluzioni immediate.